Ho avuto modo di annunciare che l'amministrazione comunale di Berceto, come del resto ha già fatto il 24-25 febbraio 2013, in occasione del referendum costituzionale che ci sarà in autunno, porterà avanti e indirà anche due referendum comunali. Uno vuole chiedere ai cittadini se desiderano la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, come lo stiamo facendo adesso, gestito direttamente dai comuni, o se invece vuole entrare in un ambito molto più ampio e quindi sottrarre questo servizio al comune di Berceto. L'altro quesito è se desidera che l'amministrazione comunale operi verso la fusione dei comuni, o se invece, come aveva già risposto per l'unione dei comuni, i cittadini di Berceto desiderano che il comune rimanga come tale nel nostro territorio.